Buonasera telespettatori di Evergreen, richieste di TRS naturalmente, bentrovati al nostro appuntamento del giovedì sera rigorosamente in diretta, 23 minuti dice il nostro orologio, ma un saluto va in apertura anche agli amici che abitualmente ci ascoltano e ci seguono e ci vedono nella nostra replica della domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno, un saluto anche voi amici del giorno festivo. Allora in apertura io vi ricordo tutti i nostri contatti, quindi la possibilità da parte vostra di entrare in diretta e di partecipare attivamente alla nostra trasmissione naturalmente con le mitiche richieste e perché no anche con le dediche naturalmente musicali accompagnate da un bel videoclip tratto dal nostro vastissimo archivio. Allora 0363340 0500 questo è il numero di rete fissa per entrare in diretta con noi, quindi per chiacchierare con noi e farci le vostre richieste musicali, naturalmente dopo il primo video apriremo le vostre linee e ancora 340 0501558 è il numero per mandare i vostri sms, se non l'avete ancora fatto memorizzate questo numero nel vostro telefono cellulare perché potrebbe tornare utile anche per le prossime richieste. E ancora abbiamo un indirizzo email evergreen-trstv.it, se avete un computer a portata di mano seguiamo in tempo reale anche le vostre email, andate pure a fare un giro sul nostro sito www.evergreen.trstv.it e ancora seguiteci sulle pagine di MySpace, Twitter e naturalmente sulla famosissima pagina di Facebook cercate Evergreen e se non lo avete ancora fatto cliccate Mi Piace proprio su questa pagina, ormai sono migliaia di persone, abbiamo superato l'8000 e questo ormai lo sappiamo da tempo. I nostri canali televisivi questa sera in diretta a reti unificate come si suol dire, canale 93 DTRS, canale 274 DTRS2 Evergreen e ancora per chi possiede un televisore full HD quindi in alta definizione cercateci sul canale 593. Bene 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 siamo ancora qui nella nostra casa di Evergreen, caro Stefano seguimi come faccio ogni volta per me è diventato un rito ma a salutare con piacere il nostro ospite di questa sera Anthony ben trovato, vado a accomodarmi e tu lo sai perché io sono tranquillo con te perché so che sei un affezionatissimo telespettatore di Evergreen e quindi seguendoci spesso sai per te non è una novità, cioè è una novità essere seduto su questo sgabello mi sembra un po' una cosa non diciamo usuale. E questo avviene anche per i telespettatori che per i nostri ospiti che dalla radio vengono catapultati nella televisione come capita proprio nelle nostre trasmissioni ma dicevo un affezionatissimo perché so benissimo che Anthony ci segue fedelmente assolutamente appena entra in casa accende il televisore e lo mette su Evergreen abitando. No ma è già è già su Evergreen per un semplice motivo. C'è un semplice motivo quale? Che il mio cane guarda sempre Evergreen quindi non si può neanche dire che non c'è neanche un cane che vi stia guardando. Esatto. Almeno uno c'è, il mio. Allora ci guardano in tantissimi quindi migliaia migliaia di telespettatori sono sintonizzati su Evergreen tra questi c'è anche il mio cane. Ciao Sasha se mi stai sentendo. Ciao Sasha ben trovato se ci ascolti se ci vedi insomma. Il tuo padrone è qui. Ecco io sono qua. Non si può sbagliare. Non l'hai portato stasera. No avrei voluto portarlo. C'è un spazio. C'è un spazio che c'è infatti la prossima volta. Gli avremmo fatto conoscere tanti colleghi perché qui abbiamo tanti cagnolini. Ah sì? Sì sì ne abbiamo. Ci sono tanti animali che girano anche nei nostri studi televisivi. Allora caro Anthony. Dimmi. Innanzitutto ben trovato. Noi così vogliamo sapere da te. Noi vogliamo scoprire segreti legati alla professione dei nostri ospiti. Segreti legati alla professione sono tanti. Se sei arrivato a Evergreen è perché tu hai un legame con la musica del passato e quindi l'hai vissuta. Ovviamente sì. Ovviamente sì. In quale modo l'hai vissuta? Allora diciamo così la mia prima volta in una console è successa a Capodanno del 1982. Allora in quei tempi non si usava tanto andare nei locali anche perché eravamo giovani ci si andava al massimo la domenica. Ma eri un figo se avevi la saletta. La saletta era praticamente il locale da ballo diciamo da inciucio che ricavavi nella cantina di casa. Per pochi intimi diciamo. Per pochi intimi. Per pochi intimi. Bene quell'anno io fu invitato ad andare a passare il Capodanno in questa saletta di un amico che era veramente molto fornito di praticamente di dischi ma come DJ ero un cane. Non come il mio cane. Cioè peggio. Peggio. Peggio di Sasha. Peggio di Sasha. Peggio peggio. Tanto è vero che a un bel momento io gli dissi senti ti do il cambio. Sentilmente. Ti do il cambio. Vai a bere qualcosa. Beh sta di fatto che avendo già quella passione perché mio fratello aveva anche lui la saletta e quindi aveva dischi, aveva i piatti, il mixer così. Quindi non era una novità. Non era una novità però quella sera praticamente nacque proprio la mia carriera a livello proprio non professionistico ma amatoriale come DJ. Ma in che località ti trovavi? Praticamente io abito nella zona di, abitavo nella zona di Ro e quindi nella zona della nord ovest milanese. ecco, ecco. Poi subito dopo nella primavera dell'83 ebbi la possibilità di poter salire in una console molto ambita e molto prestigiosa per quell'epoca che era l'Astrolabio di Cornaredo. L'Astrolabio di Cornaredo che aveva vissuto un quinquennio dal 77 all'82 molto importante fatto da un DJ veramente di una bravura eccezionale che saluto Moreno Sartori. So che anche lui ascolta Evergreen. Benissimo, quindi saluto arriva alla destinazione. Infatti, io mi spiace che lui abbia abbandonato la professione ma rimane sempre un grandissimo sia maestro a livello professionale ma anche culturale perché ha una cultura a quest'uomo che è qualcosa di bestiale. E quindi se tu lo stai salutando quasi a 30 anni diciamo di distanza significa che ti hai lasciato qualcosa? Assolutamente sì, assolutamente sì anche perché il mio metro di paragone quando lavoro in una console in un locale è sempre paragonare il passaggio come l'avrebbe fatto lui perché mi ha dato un indirizzo molto specifico cioè se non sei capace di mixare stai a casa. Ecco, era molto chiaro. Molto chiaro, molto chiaro infatti, infatti. E questo era proprio il modo di lavorare che aveva l'astrolabio di Cornaredo. Ecco, una cosa importante purtroppo io arrivai all'astrolabio di Cornaredo quando iniziò la parabola discendente infatti da lì a poco nel giro di un anno l'astrolabio poi cominciò a cambiare gestori e quindi cambiò completamente il suo successo dall'apice fino in basso. Quindi ti sei poi rifugiato altrove? Sì, sì, poi ho cominciato a lavorare in altri locali, in Mediterranei, a Legnano, ho fatto altri locali a Magenta, c'era il Ragno d'Oro. Poi purtroppo successe che mi sposai. Ma perché dici purtroppo? Eh sì, purtroppo perché praticamente mi mise la palla al piede e mi disse ma no, ma tu in discoteca, troppe donne intorno, bla 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 bla. Ma in questo matrimonio è... No, è finito. Giusto per evitare il gaffo successivo. Allora è iniziato nel 93, è finito nel 97, ecco, non ha lasciato nessuna, nessuno strascico. Perfetto, quindi sei qui sorridente, ce lo racconti? Sorridente, non ho figli, ecco, quindi non pago alimenti come si vuol dire. E allora andiamo avanti nella maniera migliore. Alla fine te ne è andato ancora bene, diciamo. Sì, sì, assolutamente. Stop alle telefonate per ora. Il prossimo video sappiamo già quale sarà, perché sarà Frida. Infatti. Però adesso parliamo un po' con Antonio Imancini perché è venuto a posto a trovarci. Abbiamo parlato degli esordi, della famosa saletta che tanti di noi hanno conosciuto. Appunto. Perché la saletta c'era negli anni 80, poi anche negli anni 90, anche negli anni 2000. Perché i ragazzi cercano l'indipendenza, no? È per quello. Vero, anche perché poi era un modo per potersi aggregare in maniera pulita ancora per l'epoca. Pulita nel senso che non girava robaccia. Robaccia. Ecco. Poi dopo quello che succedeva nella saletta rimaneva nella saletta. Potersi aggregare, potersi aggregare, ma lasciamelo anche un po' appartare. Sì, è logico, con luci molto soffuse. E la musica giusta. E la musica giusta. Bene, bene. Quindi facciamo un salto poi all'esperienza invece radiofonica. Sì, l'esperienza radiofonica è iniziata relativamente da poco, dallo scorso anno, a Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. E devo dire che mi ci trovo veramente bene. È una grande famiglia. Una grande famiglia, infatti saluto i miei colleghi che sicuramente mi stanno guardando questa sera. E io oltre al saluto, mi aggrego chiaramente anche se non li conosco personalmente, però lo dico sempre quando ospiti come te che ci raccontano delle radio, dico viva le radio locali. Assolutamente sì. Viva le radio che non hanno questa grande estensione con le frequenze, però ci sono ancora e sono belle da ascoltare. Ma bello appunto per quello, ma la differenza col grosso network, che per carità loro sono dei colossi, ecco però è la libertà. Noi abbiamo molta libertà, ad esempio un network fa un palinsesto giornaliero con 50-60 pezzi, noi lo facciamo con 300. Cioè già quello è la libertà musicale. Non avete obblighi, non avete costruzione dall'alto di trasmettere quel tale livello. Assolutamente no. Quindi questa è già la differenza. Poi soprattutto possiamo trasmettere la musica che piace a noi. Eh sì. E quindi avere trasmissioni mirate per un pubblico mirato. Immagino poi che ci siano tra i vostri speaker degli appassionati di certi generi, quindi si occupano di quello. Il pubblico sa che da quell'ora a quell'ora c'è l'appassionato di rock piuttosto che di anni 80-90. Appunto appunto appunto. So che la tua fascia oraria è pomeridiana, quindi non mi piaceva. C'è l'è 18, dal lunedì al venerdì io conduco Let's Groove. Let's Groove. E già dal nome già dice tutto perché la sigla d'apertura è Let's Groove degli Art Wind & Fire e proprio una trasmissione che ogni giorno tratta della musica degli anni 70-80 e qualcosina anche dei 90. Quindi tu sei proprio nel posto giusto. Infatti. Cosa ti senti a casa. Ah sì 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 sì. Ecco perché ci segue sempre la sua televisione. Sì sì appunto. La sega molte volte guardando la televisione e vedendo i video che passano mi ritornano in mente certe canzoni che poi dopo le passo anch'io. Sì. Sì assolutamente. Quindi prendi spunto. Prendo spunto da Let's Groove. Bene bene bene, questo ci fa molto piacere. Sì sì assolutamente. Ecco non soltanto radio punto quindi in FM, ricordiamo che le frequenze... Sì allora le frequenze di radio punto che ovviamente in FM trasmette lungo tutto l'asse del sempione in pratica sono gli 88.15, 89.100, 89.1, 88.8 e 101 MHz. Mentre in streaming ci possono ascoltare direttamente dal sito radio punto punto it. Ecco noi ci rivolgiamo a un pubblico lombardo a tutti gli effetti, andiamo anche oltre confine quindi diciamo che c'è lo streaming, cosa importantissima per le piccole radio e le radio locali se hanno questo punto in più con lo streaming riescono a farsi conoscere. Ci sentono dappertutto. Eh sì, infatti. Questa è la comodità, ci sentono dal computer, in ufficio, a casa, dal telefonino. Dal telefonino perché ci sono le app per gli iPhone. E poi parleremo di un'altra radio, ma quello che parleremo dopo. Noi siamo qui di nuovo in compagnia di Anthony, adesso quando ci faranno un cenno per lanciare il prossimo video lo lanceremo, però noi dobbiamo dire una cosa importante perché prima parlavamo di radio, di trasmissione in diretta dalle 16 alle 18, domedì e venerdì, Let's Groove, ho memorizzato tutto come vedi. Bravissimo. Non è soltanto in FM per quella zona che abbiamo detto, quindi l'Alto, considerato l'Alto Milanese, diciamo una striscia del Sempione. Sì, sono circa 50 km del Sempione, uscendo da Milano, appunto perché il nostro segnale arriva giusto a Pogliano Milanese. Poi da Pogliano Milanese in poi praticamente andiamo dappertutto. Fino a Malpensa. Sì, sì, Malpensa è coperto, diciamo che riusciamo ad arrivare alle porte di Varese, alle porte di Como e arrivare fino a coprire tutta la zona di Milano. Tutto il nord ovest di Milano. Quindi ecco, se abitate lontano e se vi memorizzate il nostro Anthony, la prossima volta che andate a prendere un aereo a Malpensa, cambiate canale sulla radio. Sì, è 88.15 e 89.1 in quella zona. Le prime radio sulla sinistra. Le prime radio sulla sinistra, infatti. Ci siamo noi. Perfetto, dai. Ah no, una cosa che volevo specificare prima del prossimo video è che nella stessa fascia oraria, quindi dalle 16 alle 18, tu non sei soltanto su questa radio, ma sei anche sulla tua radio web. Sì, infatti. Come si chiama questa radio? Radio Vintage Milano, quindi anche il nome lì dà un'idea di quello che è, si trasmette 24 ore al giorno a rotazione soltanto musica degli anni 70, 80 e qualcosina del 90, perché diciamo così, la decade non finisce esattamente allo zero, perché poi c'è sempre lo strascito di due o tre anni. Ne sappiamo qualcosa. Infatti, perché voi lo sapete quanto m'è come funziona questa cosa. E appunto dalle 16 alle 18 faccio lo streaming tra Radio Punto e Radio Vintage, quindi si può ascoltare la mia trasmissione in diretta. I contatti non mancano. I contatti non mancano, perché cosa che mi ha sorpreso molto, nell'arco di una settimana ho ricevuto più di 400 visite e questa cosa mi ha lasciato un po' sorpreso, perché non me l'aspettavo. Difondiamola, diffondiamola questa cosa. Radio Vintage Milano punto com. Punto com. In alternativa, cercare su Facebook Anthony Mancini. Anthony Mancini, quindi. Con tutti i riferimenti. I miei riferimenti sono quelli. Adesso con gli smartphone, che sia iPhone, che sia Galaxy, diciamo nomi e cognomi, insomma gli smartphone, si può ascoltare anche la radio con le applicazioni? Assolutamente sì, se hai un iPhone oppure un iPad scarichi l'apposita app o altrimenti per tutti gli altri apparecchi si può andare sul sito tuneinradio.com e scarichi l'applicazione. Ah, perfetto, allora ti cercherò. Attenzione a tutte le cose così piacevoli. Assolutamente. Quando il tempo è piacevole passa sempre in un attimo poi. Si parla della radio, si parla della musica, quindi ecco l'ultimo argomento che abbiamo affrontato con Anthony è stato proprio quella della sua web radio, un fai radio a tutti gli effetti, che si può ascoltare in tanti modi, ma soprattutto chiaramente attraverso internet che è il canale fondamentale e si chiama Radio Vintage Milano. Radio Vintage Milano. A proposito di Vintage, noi in questo frammento vogliamo parlare di un evento di musica vintage e ce lo vuole raccontare proprio Anthony perché lo riguarda da vicino. Sì, infatti sabato prossimo ci sarà a Milano, a questo locale che si chiama Palco, che è in una attraverso di Viale Tunisia ma adesso mi sfugge. Ai 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 ai. Ogni tanto i miei 47 anni si fanno sentire. Ho un'amica che conosce tutte le vie di Milano. Comunque Viale Tunisia non si può sbagliare, non si vede. Quindi per chi insomma non conosce proprio bene bene Milano possiamo dire è tra la stazione centrale e Corso Buenos Aires. Quella è la zona di Viale Tunisia. La zona di Viale Tunisia. Allora comunque potete avere, se siete iscritti su Facebook, cercate il gruppo Gli Amici del Palco e avrete tutte le informazioni che vi necessitano. Ecco la data. La data è sabato prossimo quindi il 14 di aprile. Saremo appunto al palco con questo Vintage Party che è dedicato alla musica degli anni 70, 80 e sempre qualcosina degli anni 90. È un locale aperto al pubblico, libero, non si paga biglietto d'ingresso, ha consumazione a piacere. Certo. Chi consuma paga. Chi consuma paga. Giustamente. Se vuoi dire farci anche solo un saluto va bene allo stesso. Dai 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 andate a trovarlo, visto che l'avete visto in televisione, se siete in Milano città andate a salutare Antonio Edith. Quando sono in console do il meglio di me stesso, quindi... Ah, quindi, perfetto. È un'occasione bella anche per trovarti. Certo. Ecco, a proposito poi di feste, tu lo sai, sei invitato alla nostra festa. È venerdì 27, ti diamo tempo, ti puoi preparare. Assolutamente, guarda, non vedo l'ora. Perfetto, però, venerdì 27, in aprile, in console, Beppe Barbati, Giovanni Mix, Tony Mckenzi, tanti altri artisti, ci sarò io, ci sarà Sandy Vanin. Ci sarò anch'io, eh. Entone Mancini, ci viene a salutare sicuramente, ti vogliamo sul palco. Sì, sì, assolutamente. E molto bene, insomma, abbiamo detto tutto. Adesso salutiamo anche, a proposito di festa, l'amica che si sposa il 12 di maggio. Di maggio, eh, venga da noi a fare... Anche se ti sei già organizzata per l'addio al nubilato, lo fai anche all'impero insieme a noi, sul palco e facciamo tutto quello che... Ecco, il numero per le prenotazioni è il 366-277-8517. È un numero di cellulare, chiamate per prenotare, almeno sapete che avete il vostro divanetto, il tavolino prenotato, siete comodi, siete vicino alla pista. Anche perché presumo che andranno a ruba, eh. Hai visto i nostri 8000 amici? Eh, appunto, appunto. Le tante... Ci staranno tutti gli 8000 dentro la... È una prova, è una prova che va. Mal che vada, la prossima volta prenderemo un palazzetto dello sport. Oh, madonna. O uno stadio. Come ha fatto Radio DJ, ovviamente. Esatto, esatto. Allora, dai, come funziona ogni chiusura di Evergreen? Il nostro ospite ha richiesto un video, quindi noi ci salutiamo su questo video, verrà lanciato da te e su questo noi ci salutiamo. Bene, il video che ho richiesto è niente meno che la sigla della mia trasmissione. Si tratta appunto degli Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Io vi saluto, vi aspetto tutti i giorni dalle 16.18 su Radio Punto, la linea dell'Alto Milanese. E... Alla prossima. Alla prossima. Anthony, grazie mille della tua presenza. Let's Groove a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao.